e questo e fiesco che metto abbastanza qua con una burdella chi mi trova la miraglia qua che è macchina e spie lo fa fiesco se mi brucia ficha e ma alla fine la stagione su come mi tatuisia è spantanza tira e quando valla dire e ti mi ha la miraglia che sente sempre la scelta è un'eapostura ma lui è qua da ansi e ti ritieni ti è scostro qua e se di ca fa la miraglia A presto! Ehi, 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 ehi. Alta, alzare! All'indice! Ok 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 D kantare! Com'è? 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 Questa! Questa! Questa è la vostra Questa è dedicata a tutti i pergamasci Che magari this year vuol dire La karaka per questa parola ai ser È l'altra cosa che parla la mercina Alzati i popoli, mi sento Io non mi posso essere mai ser E takara kate! E la karaka de e voi si capace che le montate nelle nostre Ai, Ai! Come va, come ! Corre, come spasso! enquanto una scantola di Gagli pagamento che cap interno di Gagli pagamento cuore, cuore, cuore Значит la scantola di Samparo e adessere è la prima cosa che ho parlato di a kient colt determination e l'UE Dico La Satt Horse Inolapicolo del Est Brillatướ De La Paragate nel vostro questo yogurt 91 portro della famiglia Congratidas Grazie a tutti Grazie a tutti